I dipendenti auto scontenti delle risposte dell'amministrazione dopo l'incontro con l'assessore ai beni finanziari e patrimoniali Boris Pastorello decidono di continuare la loro protesta confermando l'appuntamento fissato per mercoledì prossimo 27 maggio dinanzi la prefettura con il terzo sit-in della speranza. Una delegazione dei lavoratori e dei sindacati in protesta dinanzi al Palazzo del Carmine per rivendicare gli stipendi arretrati e chiedere l'avvio della SRR sono stati infatti ricevuti al comune dall'assessore Pastorello e dal sindaco di Santa Caterina Michelangelo Saporito. Sarò soddisfatto nel momento in cui tutto quello che è stato l'impegno che si è preso ieri e l'assessore Pastorello si concretizzerà. In quel momento questa organizzazione sindacale sarà soddisfatta. L'impegno che si è preso è quello di erogare nel più breve tempo possibile per la quota parte che al comune Caltanissette aspetta il pagamento degli stipendi e inoltre di convocare un'assemblea dei sindaci soci dell'SRR in modo tale da velocizzare l'iter per l'avvio definitivo dell'SRR e poi richiamare le organizzazioni sindacali. In adempienze quelle dei comuni soci dell'SRR e Caltanissette a nord che non permettono di avviare la nuova gestione dei rifiuti così come dichiarato dal commissario straordinario Enrico Vella. A questo si aggiunge la difficile situazione economica dell'Exat a seguito dei pignoramenti che incombono sulla società d'ambito, l'ultimo di 460 mila euro e che ha visto il blocco del conto del commissario. Tra le somme vincolate anche i 150 mila euro per i lavori di bonifica della discarica di Serrea di Falca attualmente in corso. Intanto si attende la nomina del commissario ad acta che dovrà aprire un nuovo conto dedicato al commissario. Loro sono in adempimenti rispetto alla legge nuova, loro rindendo tutti i comuni che ricadono nella SRR Nord che di fatto non è attiva, è soltanto iscritta dal notaio, però ci sono degli adempimenti che ancora si continuano a non fare, significa non avere l'operatività, significa avere lo stallo, significa avere anche in questo caso il commissario, la gestione commissariale, essere soggetta ai pignoramenti che ci sono stati proprio perché il passato ci rigorre. Quali adempimenti non hanno appunto adempiuto sinora? Guardi, trasmissione della pianta organica, io mi sono sostituito nell'andare a fare il piano d'ambito che è praticamente il piano indizionale di questa società. Noi in meno di tre mesi siamo riusciti a mettere su una proposta progettuale che presenteremo alla Stambe e a tutte le autorità di questo territorio, spero alla fine della prossima settimana, e poi tutti i piani di intervento delle aro, hanno fatto una scelta politica di costituirsi in almeno sei aro, cinque sono costituite formalmente, uno ancora non riesce a partire proprio perché si sono costituiti e ci sono state delle frizioni già nella Costituzione, tra di loro nel formare o nel disquisire il servizio che faranno nelle loro città rappresentate.